cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo pressione in calo una rapida perturbazione in transito sul nostro territorio causerà un tempo instabile vediamo insieme il dettaglio di martedì 14 marzo sul veneto cielo in genere molto nuvoloso coperto con precipitazioni piuttosto diffuse e all'inizio un po più insistenti sulle zone centro settentrionali della regione migliora poi nella notte venti da direzioni e intensità variabili temperature con andamento irregolare minime comprese tra 4 e 8 gradi massime invece tra i 10 e i 15 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso il cielo sarà coperto con piogge diffuse da abbondanti ad intense specie nel pomeriggio sera temperature minime tra 6 e 7 gradi massime sugli 11 12 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove avremo anche in questo caso precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolar modo al mattino e in attenuazione poi in serata temperature minime intorno agli 8 gradi massime sui 15 all'incirca dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago è tutto grazie per l'attenzione